Una spina nel fianco nella difesa del Perugia, non è bastato per vincere questa partita, peccato perché avevate trovato quel gran gol di Memu Shai, non siete riusciti a chiuderla e poi avete subito il pareggio del Perugia, avete anche rischiato nel finale. Sì, come hai detto te abbiamo trovato subito il gran gol di Memu che ci ha portato freschezza soprattutto nel primo tempo, è arrivato il gol del Perugia nei minuti finali che quando arriva così nei minuti finali diciamo ti dà una bastonata, è stato un gol dove come si dice non si può far tanto perché Vida è stata abbastanza fortunata, c'era pescato il jolly della domenica, una spizzata all'indietro e è andata in gol. Nei minuti finali abbiamo un po' rischiato su qualche traversone magari ma diciamo che è occasione nitide a meno che dal mio punto di vista il Perugia non ha avuto tantissime. Riccardo ti stai prendendo il Pescara, io ti riporto le parole di Sebastiani qualche istante fa, contentissimo della tua prestazione, l'esordio non era stato bellissimo a Cittadella in un ruolo forse non tuo ma Ascoli l'azione del rigore, oggi l'azione della punizione. Pescara ha trovato il suo attaccante esterno. Guarda io quando il mister mi chiama in campo cerco sempre di dare il massimo, metto le mie qualità a disposizione della squadra e il resto viene da sé quando metti impegno, voglia e lavori, risultati come si dice vengono partita dopo partita, allenamento dopo allenamento quindi io penso solo a far bene e il resto si vedrà. A Cittadella avevi giocato in un ruolo probabilmente non tuo, da attaccante esterno ad Ascoli anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore importante, stai facendo bene, ora mancherebbe anche questo gol forse per coronare un finale di stagione importante. Diciamo che il gol è importante per un esterno, per coronare la stagione in modo bello per noi e per la piazza servirebbe, come ho detto in tante altre interviste, la promozione passando dai playoff o da quelle da vedere. Però diciamo che non ci dobbiamo far distrarre da altre cose, l'importante in questo momento non sono sicuro i miei gol, se vengono sicuramente fa piacere a me, fanno piacere ai miei compagni ma il nostro obiettivo è quello di chiudere in bellezza questa stagione. Riccardo se mai ce ne fosse stato bisogno abbiamo scoperto bene bene qual è la tua caratteristica principale, andare via sul primo passo e poi per gli avversari sono dolori, oggi praticamente nell'azione del calcio di punizione Rossi lo hai mandato, abbiamo detto in cronaca, caccia di farfalle. No sì, mi fa piacere i complimenti, una qualità che avevo fin da bambino e niente, mi fanno piacere i complimenti da parte del Presidente che ringrazio e spero di ripagare la loro fiducia in queste ultime partite di campionato. A proposito di fiducia, si guarda con fiducia, non potrebbe essere altrimenti alla gara del lunedì di Pasqua in casa del Carpi, due punti che oggi avete perso per strada, cercherete di riconquistarli e dunque la vittoria in casa della formazione emiliana. No no, come ho detto prima, Carpi è una partita troppo importante per noi, perché oggi, come hai detto te, è una proiezione play-off importante, piuttosto per sfortuna abbiamo perso due punti e dobbiamo andare assolutamente a Carpi con la mentalità di vincere e portare a casa questi tre punti. Sta arrivando Ciofani, quindi ti dobbiamo salutare. Grazie, grazie a Riccardo Sottil, ancora un attimo e poi lo ascolteremo. No, no, papà lo chiamo, lo sento, o mi chiama lui dopo la partita. No, assolutamente, assolutamente contento.